Quattro interviste con contributi musicali per continuare così a sognare e a riflettere sulla grande arte della musica, il tutto ovviamente online, come impone l'emergenza sanitaria. Si chiama infatti, parlando di musica, Grandi Maestri a Confronto, il nuovo format organizzato dalla Fondazione Ivan Bruschi grazie all'intervento dell'Associazione Musicisti Erettini e alla collaborazione di Officine della Cultura. È un periodo questo, tra febbraio e aprile, in cui ospitiamo da 15 anni la stagione concertistica internazionale. Oggi avremmo dovuto ospitare la sedicesima edizione. Non lo possiamo fare e ci auguriamo di tenere questo legame che ormai per noi è a noi molto caro, quello tra l'arte e la musica, di poterlo riproporre, magari nel periodo estivo, sulle terrazze, quindi mantenendo tutti quelli che sono i distanziamenti e le regole imposte dai DPCM, di poterlo riproporre e allora, visto che non lo possiamo fare adesso, ai nostri affezionati della stagione concertistica proponiamo questi appuntamenti gratuiti. Una serie di incontri dunque con artisti internazionali a partire da sabato 13 marzo sino al 15 maggio. Cominceremo il 13 con il collega e amico Lorenzo Antonio Iosco, clarinetto a Hong Kong Filarmonico Orchestra. Parleremo con lui delle nuove strategie che i musicisti devono mettere in atto proprio a causa anche della pandemia, dei cambiamenti che ci sono in atto. Poi avremo il maestro Bruno Canino, che è un amico ormai, voglio dire, pluridecennale del festival, con il quale parleremo delle sonate di Ludwig van Beethoven per pianoforte. Poi avremo infine due altri appuntamenti a maggio con Gian Paolo Pretto, che è il direttore dell'Orchestra Filarmonica di Torino, nonché il primo flauto della RAI, il quale ci parlerà dell'interpretazione musicale. Infine, l'ultimo appuntamento con Laura Marzadori. Laura Marzadori è il primo violino della Scala di Milano. Da noi è venuta quando aveva vinto il concorso nazionale Vittorio Veneto, che aveva 14 anni, era poco più che una ragazzina, ma oggi è appunto in questo ruolo alla Scala e che appunto ci spiegherà cosa comporta questo ruolo e questo lavoro. Quindi io penso veramente a quattro appuntamenti, uno più interessante dell'altro.